Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore che in 12 anni ha coinvolto più di 41 mila studenti italiani, 18 mila nell'anno scolastico 2016-2017 e oltre 310 mila ogni anno in tutta Europa. Dall'anno scolastico 2015-2016 Impresa in azione è ufficialmente inserito tra le esperienze di alternanza scuola-lavoro riconosciute dal Ministero dell'Istruzione. Le classi partecipanti costituiscono delle mini imprese a scopo formativo e ne curano la gestione dal concept di un'idea al suo lancio sul mercato. Questo percorso ricco di contenuti e strumenti consolidati offre un'esperienza professionalmente a stretto giro con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali fondamentali per tutti i giovani indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. Noi con le nostre telecamere siamo stati in una classe del liceo scientifico Torelli di Fano che partecipa a questo progetto. Greta Cetrone, responsabile dell'amministrazione. Io sono Laura Gai e sono responsabile vendite. E tu invece? Io sono Cano Tommaso e sono il direttore dell'area marketing. E tu? Tommaso Rondini, direttore dell'area finanziaria. È partito il progetto a ottobre e dai primi di novembre siamo stati operativi. Facciamo due ore alla settimana, dall'una e mezza alle tre e mezza. Ma i ragazzi in realtà, molti di loro elaborano a casa anche documentazione, progetti, vanno a prendere materiale, lo modificano, si vedono in gruppo. Quindi ha coinvolto molto la classe. Inoltre dall'inizio alla fine ho visto dei risultati. Perché questi ragazzi hanno acquisito una certa maturità, un certo livello di problem solving, perché ogni cosa viene discussa, si mette ai voti, quindi anche un processo democratico di decisione. Perché poi avete deciso di realizzarlo in questo modo, i materiali, e come materialmente lo avete pensato? Abbiamo pensato di realizzarlo dapprima in alluminio, perché ci sembrava un materiale molto più resistente ed eravamo entusiasti di realizzarlo molto resistente, che potesse durare. Allora, perché avete deciso per un oggetto come questo? Diciamo che all'inizio la classe ha dato varie proposte, però noi abbiamo scelto questo prodotto perché comunque nasce dall'esigenza di noi studenti, perché veniamo a scuola con degli zaini veramente pesanti, condizionari, e quindi è nata per noi studenti. Poi però l'abbiamo allargata a vari target d'età, quindi anche una persona più anziana può usarlo per fare la spesa, oppure dei genitori per portare dei giochi del figlio al mare. È più veloce, è più veloce.